Il 27 ottobre 2019 si vota per l'elezione del Presidente della Regione Umbria e per i 20 consiglieri che andranno a comporre l'Assemblea Legislativa. Si vota sul Collegio Unico Regionale. I seggi elettorali resteranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica 27 ottobre. Per votare è necessario avere con sé la tessera elettorale e un documento di identità valido. In caso di smarrimento della tessera elettorale è necessario recarsi presso l'ufficio preposto del Comune di Residenza per il rilascio di un duplicato. Sulla tessera elettorale è indicato il numero di seggio dove votare e il suo indirizzo. Gli elettori riceveranno una sola scheda dove sono indicati i candidati alla Presidenza della Giunta Regionale e, a fianco, le varie liste regionali collegate al candidato Presidente. Sono possibili quattro modalità di voto. Tracciando un segno sul rettangolo del candidato Presidente della Regione, si esprime un voto per il candidato Presidente. In tal caso il voto si estende a favore della lista o della coalizione di liste ad esso collegate. Tracciando un segno nel rettangolo che contiene il simbolo della lista regionale scelta, si esprime un voto valido sia per la lista che per il candidato Presidente a cui quella lista è collegata. Si può tracciare un segno sul rettangolo di un candidato Presidente e sul simbolo di una delle liste ad esso collegate. Si esprime un voto per il candidato Presidente e per la lista collegata. Scrivere il cognome o il nome e cognome di uno o due candidati di lista senza tracciare alcun segno sul simbolo della lista di appartenenza. Comporta l'attribuzione della preferenza per i candidati, ma esprime anche il voto a favore della lista medesima e del candidato Presidente collegato. Si possono indicare fino a un massimo di due preferenze. In questo caso, i due candidati prescelti devono essere di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. Non è ammesso il voto disgiunto, e cioè nullo il voto espresso tracciando un segno su un candidato Presidente e sul simbolo di una lista collegata a un altro candidato Presidente. E' inoltre nullo anche il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidenti diversi. Viene eletto Presidente della Regione il candidato che ottiene il maggior numero di voti e alla lista o alla coalizione di liste che sostengono il candidato Presidente vincente sono assegnati 12 seggi su 20. I seggi vengono attribuiti alle liste della coalizione collegata al Presidente vincente che superano il 2,5% dei voti validi. Gli altri otto seggi sono assegnati alle liste di tutti i candidati Presidenti perdenti che superano il 2,5% dei voti validi. Un seggio viene assegnato al candidato Presidente Migliol Perdente. I restanti sette seggi, in base ai risultati ottenuti, vengono attribuiti alle liste che hanno sostenuto i candidati Presidenti perdenti. Elezioni regionali 2019 La sede di Palazzo Cesaroni a Perugia resterà aperta al pubblico senza interruzioni dalle ore 20 di domenica 27 ottobre alle ore 20 di lunedì 28. L'Ufficio Stampa dell'Assemblea Legislativa curerà una diretta streaming sui risultati elettorali che verrà trasmessa sul canale YouTube dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Sarà inoltre allestita una sala stampa e i giornalisti delle testate locali e nazionali disporranno di postazioni autonome all'interno di Palazzo Cesaroni.